Con questa alba spettacolare a Puerto Madryn, Penisola Valdés, inizia la giornata che prevede il trasferimento in aereo a Ushuaia, terra del fuoco, distante circa 1500 km. Una volta arrivati ci trasferiamo al porto per una escursione in Catamarano sul canale Beagle fino a raggiungere il faro. Dovremmo avvistare pinguini, cormorani, leoni marini e altre specie di ricerche. Chiunge notizia che sono stata distante del palermo, evento raro in questo periodo, vedremo. Le abbiamo avvistate, un'emozione fortissima. Grazie a tutti. 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 reperti che testimoniano la presenza di Yamana, una etnia locale che si era insediata in questi luoghi in ospitali 10.000 anni fa. Un gruppo di simpaticissimi veneri che sfidano le acque geline del lago con i calli di Yamana. Un gruppo di simpaticissimi veneri. Un gruppo di simpaticissimi veneri. Un gruppo di simpaticissimi veneri e a continuare a parlare di Megat nessuno, una composta fisca invece di mar Kelly e teen mamma. Grazie a tutti Grazie a tutti